Il liceo Carducci è un liceo classico e un liceo linguistico. Offre una formazione solida di tipo tradizionale, al contempo però molto moderna, dinamica, attenta alle novità anche tecnologiche. Il liceo è un liceo che aiuta i ragazzi a sviluppare competenze, approfondire conoscenze e sviluppare lo spirito critico. Il liceo offre anche attività di ricerca, di laboratorio, attività esperienziali che mirano soprattutto a ampliare lo spettro di capacità e di competenze degli studenti e in particolare cercano di avviarli all'autonomia e sviluppare in loro capacità logiche e argomentative. Nell'indirizzo linguistico c'è il percorso Cambridge, il potenziato di lingua 2 tedesco e anche il percorso ESAVAC che consente di ottenere al termine del quinquennio il doppio diploma italiano e francese. Il liceo classico ha attivato il percorso Biologia con Curvatura Biomedica. È un percorso nazionale e ministeriale che consente ai ragazzi di ottenere una preparazione molto alta in ambito medico e quindi favorire l'accesso alle professioni mediche e sanitarie. Ho deciso di iscrivermi al liceo linguistico perché sono convinta che sia un percorso di istruzione completo e che migliora le competenze linguistiche. Sono molto contenta della scelta compiuta e la consiglio a tutti coloro che hanno una passione nello studio delle lingue. Dopo il liceo ho intenzione di continuare gli studi. Mi piacerebbe occuparmi di psicologia applicata alla comunicazione o al commercio. Grazie alle competenze che ho acquisito mi sento pronta ad affrontare questo nuovo percorso. Interazioni e relazioni Curiosità Knowledge Logos Bewustsein Multilingue Comunicazione